Ieri vi ho riferito di come Ronda Rousey sia stata multata e sospesa in storyline dalla WWE e quindi non comparirà nella prossima puntata di SmackDown. Ma quanto sarà lunga questa punizione? Ma stando al Wrestling Observer non troppo. Infatti questa fonte rivela che stando a quello che ha acquisito Ronda dovrebbe partecipare a Clash at the Castle. Di conseguenza è molto probabile che la rivedremo a SmackDown o in generale negli show televisivi della WWE a brevissimo. Si prospetta pertanto all'orizzonte, salvo cambi di rotta, un possibile terzo capitolo contro Liv Morgan. A meno che nella prossima edizione di SmackDown non succeda qualcosa che separi le strade dell'attuale campionessa dello show blu e della donna più pericolosa al mondo.